Salve popolo giocante, siamo qui per fare un altro bellissimo unboxing, siete contenti? Tu sei contenta? Sì, sì, tantissimo Brava, devi essere contenta Allora, per primo comincerei con European Soccer Questo l'ho trovato, l'ho trovato, no, questo l'ho comprato online Perché l'ho comprato? Perché mi piaceva questo gioco su Mega Drive E l'ho provato a casa di un amico una volta, tieni, unboxalo Ho portato un guanto, eh? A che ti serve questo guanto? Cioè, in realtà sono due, ma ne metteremo uno Perché ho visto che in queste cose in cui fanno scarta la carta Si mettono i guanti bianchi Io quello bianco non ce l'avevo, ho messo questo qui rosso E vabbè Qui abbiamo un bellissimo... Che cos'è? Lolle e Benji dei poveri? No, è un gioco di calcio semplicissimo Che io, diciamo, giocavo con i miei amici Sì, non c'è neanche il libretto di istruzioni Ah, 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 qua abbiamo la solita vecchia scatola con dentro... Ma l'ho pagato pochissimo, tipo 8 euro Ma mi spieghi perché fare una scatola così grande Se poi invece il giochino è solamente così? Posso fare una cosa? Allora, tu fai delle domande non pertinenti Sì, no, ma neanche questa cosa è pertinente Però non devi fare domande, cioè, stupide Era un packaging fatto... packaging Un packaging fatto così Un pacco, un pacco, un pacco Posso avere un'anima almeno mentre facciamo questa cosa? Deve essere solamente una marionetta? No, no, puoi fare quello che vuoi Ok, va bene Però, cioè, non fare domande stupide più che altro Perché questa è una domanda stupida A cui nessuno potrà darti una risposta Così era, così è stato, così sarà per sempre Sei inquadrato? Sì Andiamo decisamente avanti scartocciando questo È un gioco grandioso, bellissimo, di Sottomarini E io vorrei che tu facessi vedere il libretto di istruzioni Un gioco meraviglioso, meraviglioso, fantastico, grandioso Di niente poco di meno che Sottomarini Ma non fare tanto là, cioè, nel senso, è così Cioè, stacci Ma i Sottomarini in quale pianeta sono meravigliosi? Il problema è che adesso non ci sono più Sottomarini in quale pianeta sono fantastici Ma non ci sono più adesso i sottomarini Giochi di sottomarini No, in realtà ce n'era uno per 3DS Però, voi Prima c'erano tutti i giochi No, ma io me l'immagino i ragazzi Giochi di sottomarini, tennis Adesso non c'è più niente C'è solamente The Last of Us Emozionante il mondo dei sottomarini Gente che si eccitava Cioè, guarda quanto è grande il Sì, ma hai capito quanto è grande? Sì, sì, c'è anche qualche orecchietta Qua e là, eh? Ok Ore e ore a poter leggere Del fantastico mondo dei sottomarini Vabbè, no, ma nel senso Guarda come ci tenevano prima A che tu Ho pensato che fosse semplicemente in tante lingue Vabbè Ma perché? Perché devi sempre sminuire la cosa? Cioè, per me è affascinante tutto questo Perché non è affascinante per te? Sei un pilota del 688 Un sottomarino d'attacco della classe Los Angeles All'inseguimento di sottomarini soviet alfa Cioè, un pochettinino e un po' Eh sì Il solar segnala un contatto in immersione Carica e arma i tuoi siluri Mark 48 Imposta una destinazione automatica E muoviti lentamente verso la tua prega Ebbè Mi sono eccitata solamente Guarda lei Hai visto? È poco Mi sento proprio immersa nel mondo dei sottomarini Sei proprio immersa Posso avere anche il rumore? Sì, va bene Andiamo avanti Ed ora un gioco, lo so, terribile Un gioco di golfo Molti lo derideranno Però è Arnold Parmel Torment Gull Vorrei porre l'attenzione dei presenti Sul volto di questo giovine Ma Allora Questo gioco lo teneva Ce l'avevo un mio amico di scuola come sempre Perché noi compravamo i giochi E poi ce li facevamo un po', sai, girare Guarda come si ripete l'immagine di questo volto Sì, è un libretto di istruzioni veramente copioso Così è fatto Vedi Sì, ma sembra una geografia Però vabbè È un utero Sì, sì Un utero deforme Abbiamo tutte le illustrazioni campi da golf Tutto molto bello Ora leggi dietro la descrizione che è la cosa più bella Allora, dove siamo? Questo è spagnolo, questo è inglese Iniziamo la partita È ora di giocare una delle più grandi competizioni di golf Il torneo Arnold Palmer E lui non me lo renderà certo facile Con soli 16 giocatori ammessi a gareggiare Dovete veramente mettere alla prova voi stessi per qualificarvi Potete giocare su campi ricchi di vegetazione Ma essi sono pieni di ostacoli Dai Dai che? I fossatelli? Ah, dai fossatelli di acqua Alle trappole di sabbia Alla sempre presente erba lunga Allora, devi sapere una cosa Che non sempre le traduzioni erano fatte bene No, ma non me ne ero accorta Guarda I fossatelli I fossatelli I fossatelli Vorrei Ma che sono i fossatelli? Tu non lo saprai mai cosa sono i fossatelli Se non leggi in un'altra lingua Tipo in inglese Però vabbè, non fai niente Immagina dei fossatelli con una pasta I fossatelli Allora, un'altra cosa che ho comprato Questa è una fiera Questi qui I megagames Che sono delle raccolte Quindi insieme, contemporaneamente Una cosa Sì, sì, fai una cosa a due Eh sì, fai una cosa a due Vabbè Eh, fondamentalmente Perché ho comprato questi? Perché ho visto che su ebay Ce ne sono tanti A me mancherebbe il 2 E proprio il 2 costa un casino di denari Ah Il 2 dice L'1 non se lo caga nessuno Sono raccolte fondamentalmente No, sinceramente c'è Nel 3 c'è Alien Storm Che non è niente male E poi vedi i giochi di elicotteri Super Thunder Blade No, ma io non ho capito Che sono raccolte Sono raccolte di giochi Ah Dai, aprimi uno Apre il primo megagames No, no, apriamo il terzo Andiamo agli ultimi Non saranno i primi Allora, uno Ma anche lì Sì, però la cosa divertente È che comunque sono Siga originali Io non li conoscevo Sì, la Siga faceva le raccolte Delle loro Faceva le raccolte Le loro più grandi cagate Tutte insieme Hai detto Cagate a Alien Storm Che sarebbe questo bufazzo qua Sì Che parlava di Non parlava di niente Non c'era tante cose Non c'era tante cose da dire Leggi la descrizione Di Alien Storm Alien Storm Mi sembra un E-Man con i dinosauri Andiamo avanti Sega Sega, siamo sicuri? Si dice Sega 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 Congratulazioni per l'acquisto del Mega Drive Questa esclusiva raccolta di giochi Da Sala Giochi Sega Porterà tutta l'azione della Sala Giochi L'ha detto tre volte Sala Giochi Sì, ho capito Direttamente a casa vostra Ci sono più di 200 giochi Mega Drive Dai quali scegliere Speriamo che questa raccolta Sarà un'ottima base Su cui costruire la vostra collezione Traduzioni veramente fatte con i piedi? Traduzioni erano fatte con i piedi? Sì, sì, assolutamente Andiamo decisamente avanti Rimaniamo sempre in casa Sega 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 Ci hanno pensato Ce lo sapevano che in altri post del mondo Allora Questa è una chicca Questa è la risposta A Castelvania Di Sega Master of Darkness A tutte queste risposte avevano delle domande Perché non penso qualcuno avessi chiesto Ce lo sapevo che l'avessi detto prima o poi Sì Molti che Chiedevano Vai Sega Se avevi un Nintendo 8-bit E giocavi al primo Castelvania Volevi anche tu la tua storia di Dracula Ed è questa qui Scartocciala Perché questa è veramente fatta bene Perché se era pover una volta E quindi se avevi la Sì Non potevi avere quell'altro Costavano molto le console all'epoca Tanto Non è che ora non costino poco Rispetto a quanto costava prima una console Veramente tanto Cioè nel senso costava di meno Se lo rapporti ad allora Però molto di più Per quanto riguarda uno stipendio Eh certo Quindi O eri di una scuola O eri dell'altra O eri di una campana O eri dell'altra E se non c'avevi la possibilità di giocare a Castlevania Ti devi accontentare del Pezzotto A parte che Pezzotto non è Master of Darkness Ed è bellissimo E allora ti devi accontentare Di Master of Darkness Ma fallo vedere Perché questo è completo Dentro c'è tutto Piano Sei pazza Ah lui si è fatta prendere la foga Piano 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 Così si fa Però guarda quanto è bella la cartuccia Eh però devo dire la verità Aveva una sua classe La cartuccia è stupenda Aveva una sua classe Devi dire quanto è anni 80 La cartuccia con le scalanature Sai È figa Questa mi sento Una di quelle delle televendite Ho messo anche il guanto al contrario Una di quelle delle televendite Dei gioielli Girala 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 Al contrario Guarda che figata Guarda C'è scritto che non devi soffiarci dentro Poi ho trovato in un cestone Questo Excitebike Lo conosciamo tutti Per NES È una versione loose Niente di speciale Infatti se la vuoi far vedere Ma è niente di che Excitebike fondamentalmente A me piaceva tantissimo Il primo gioco Non c'è neanche il foderino No no Io i giochi NES Ce li ho tutti così Purtroppo Vabbè è una scelta filosofica No perché li buttavo Ero piccolo e stupido Ma la gente poi Cioè si trovano anche con le loro scatoline Si trovano con le loro scatoline Però costano tipo il quadruplo Il quintuplo Ok E questo l'ho pagato veramente poco 10 euro Cioè si poteva fare Non è vero non l'ho pagato 10 euro Ho pagato 30 Puggiardo Eh lo so non me lo dava Meno di 30 non me l'avrebbe dato Ma andiamo decisamente avanti Con l'epoche Perché in questi video Non posso fare come Pippi che beve Mangia Che fuma tutto il tempo Perché è brutto da vedere Pippi Andiamo avanti con l'epoche E andiamo Un'epoca playstation Perché ho comprato Questo Ace Combat 3 Versione giapponese Chi può dirlo Bella domanda Ha ha Ora te lo spiego perché Ecco Allora Ho comprato Ace Combat 3 Electrosphere In versione giapponese Come 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 Electrosphere Electrosphere Perché nella versione giapponese Prima di tutto composta Da due dischi Devi fare le impronte Se i dischi Non puoi Allora Conteneva questo L'anime Perché c'era tutta la storia Che probabilmente Questo è un ripeto bello Posso? No ma Allora questo gioco È fatto da un cartone animato Non da poco Perché la storia era bellissima Tutte le missioni Erano Spezzate Da questo Grandissimo anime Che E questi erano i personaggi Bellissimo Tra l'altro bellissimo Pagato questo quanto? Questo l'ho pagato poco Perché versione giapponese Sai ti ricordi Quel fatto Che le versioni giapponesi Visto che hanno un'altra lingua Non valgono niente in Italia Il più bello di tutti quanti Tu l'hai pagato di meno Perché Sì l'ho pagato pochissimo Perché è giapponese Perché lo sei pagato anche Originale Il luogo in cui l'hanno fatto In realtà Sì In Giappone sarebbe costato tantissimo E invece in Italia No perché è giapponese La vita eh Che Che beffa Che beffa Che beffa C'è un altro libretto Sì questo è proprio il manuale Di distruzioni del gioco Qua vedi qua si vince Sì Il giapponese Sì È una cloche per aerei Che io poi ho comprato In tutti È una di quelle mostruosità Che c'hai qua Nello sgabuzzino Ogni tanto cacci E sembra che stai cercando Di costruirti una navicella Spaziale Per Non lo so Andare da qualche parte Ti ho visto Ok andiamo decisamente avanti Con le epoche ancora E andiamo Nella epoca Xbox 360 Ho trovato Sonic Generations Qualcosa che anche I giovani d'oggi conoscono Ma perché Non l'avevi comprato No Perché l'avevo visto Mi faceva veramente cacare Mi faceva cacare Siamo qui a parlarne però Sì Perché Poi Quando un gioco mi fa cacare E lo vedo Poi dico Vabbè un giorno Quando lo trovo Lo compro E l'ho comprato Però faceva schifo Prove Che Unbox Cioè come tu vedi Una cosa ti fa cacare Dici un giorno Prove che mi fa cacare Lo comprerò Ma perché non l'avrei mai comprato A prezzo pieno Capito E qui Non lo voglio sapere Quanto l'hai pagato Non lo voglio sapere Ma forse Apre una parentesi Perché 12 euro Siamo alla Sotto Natale Arriveranno tanti giochi Che io ho comprato E poi fare un unboxing Con Gabbe Ciao Gabbe Allora non è che l'idea fosse male Di Sonic Generations Questo è il figlio Allora io so che Violenza sulle donne Non si può fare Giusto? Non si può fare Io non lo voglio fare Violenza sulle donne Però Come fai a dire Che Che quello è il figlio Di Sonic Io Scusa c'è un Sonic Grande C'è uno piccolo Che deve essere Il fratello Fratellino? Io so che tutti voi Sapete Il motivo Allora però Adesso io te lo spiego C'è un Sonic Grande È un Sonic piccolo Perché il Sonic piccolo Secondo te Perché si chiama Generations? Perché quel Sonic piccolo È Disegnato Ha il design Del Sonic Vecchio Cioè Dei primi Sonic E Questo Invece È il design Di quello Della Dreamcast Quindi c'è Sonic Generations Perché tu giochi Con tutti e due Due Sonic Due modi per giocare Vabbè Io No guarda che l'idea era No no L'idea era figlia Ah ho capito Dopo il Terza volta che ho detto Sonic Va bene Non me ne può fregare Una ceppa Per me tra le altre cose Questo è brutto E questo è caruccio Una confezione Una confezione Una confezione In questo verde fluo Sparatissimo Ragazzi Verde Slimer Ma tu Non sai che cosa è Una Xbox 360 Vabbè Chiudi va Andiamo avanti Io poi non è che ho capito Ancora che devi giocare Dove giocare Col vecchio e col nuovo Ma poi non ho capito Perché hanno fatto Mario Ghiatto e Mario Sicco Cioè Mario Bros Quelle Basta E ora Rimaniamo In In tema Xbox 360 Ho trovato Questi due Assa fa qualcosa La scartoccia No Allora Non si può Scartocciare Questo è nuovo È mint Non è mai stato aperto Per questo l'ho comprato Era usato L'ho comprato Nuovo Non è sigillato E poi Soprattutto questo L'ho comprato Per Xbox 360 Perché questo Lo comprai Per PS3 Quindi poi L'ho ricomprato Per 360 Questo lo puoi Far vedere Lì Questo è Casselbana Lord of Shadow Ok Vai Scartoccia Sì Quello lo puoi aprire Ma io voglio Trovare la carta Non ti permettere proprio Scarta La carta Eh Che bello Ma Eh beh È Dracula Eh sì Sai chi c'è dietro Questo gioco Hideo Kojima Che palle Sì Sì Allora L'artwork È bellissimo Il libretto È bellissimo Perché Veramente curato Tra l'altro Questo gioco Lo ricordiamo tutti Non doveva essere Castelvania Poi venne Kojima E Disse Facciamocene in Castelvania È bellissimo Sì Questi sono i personaggi Guarda 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 Carmilla Quanto è bello Il capello Ha benvenuto in mia casa Sì Eh Sì Sì Decisamente Sì Sì Fatto bene Sì Sì Va bene Caruccia Sono due dischi Ah Come mai Era veramente Grande Questo gioco No Però così Come sull'altro Poi dici che si graffia Io non ho fatto niente No Tu non c'entri niente Allora Sì Ci hanno fatto il cartone animato Allora Questo non si tocca Questo non si tocca C'è ancora Il Non lo scartoggio Mettilo qua Giusto Fargli vedere un'occhiata E tutto C'è ancora il marchetto Si ha Questo Me lo riprendo Non voglio proprio Che tu lo tocchi Ma quindi che si fa Non si apre No Non si apre È da collezione Perché io ce l'ho Questo aperto Ah Capito Ce l'ho È una cosa Per PS3 Perversa Perversa No È collezionismo No È come se avessi Una mia vergine Nella stanza Che non tocchi Ma quello però Non servirebbe a niente Ma non ti avrei sposato Perché non rompono i coglioni I giochi È come se avessi Una moglie Qui E poi è la mia versione No I giochi I giochi non rompono i coglioni Quindi fa piacere Tipo Super Vicky Chiusa dentro al Allora Ce le ho per PS3 Non avevo Vabbè Andiamo avanti E questo È l'ultimo gioco Che vi farò vedere L'ho ordinato ad agosto Mi è arrivato ora Perché dovevano Stamparli Questa è una limited run Di Castlevania Collection Advance Probabilmente avete visto Il piccolo reel Vai Questo lo puoi scartocciare Ma è già aperto Che devo scartocciare Eh sì Fallo vedere Ma è Che è Serata Castlevania A me piace Castlevania Dead run Thank you for being right Mi sentire Mi sento L'odore Della Limited edition Ok Questo è mio Ok Vabbè Confezioni sempre Eh sì La cartuccetta Della Switch Ti fa sempre ridere Vero Tra l'altro Questa ha Un artwork Veramente divertente Ci sono le copertine Di tutti i giochi Faglielo vedere Faglielo vedere Questo è Castlevania Circle of the Moon Per Advance Sempre Questo è Armonium Dissonance Secondo me Molto bello Molto molto bello E questo è Castlevania Aero Sorrow E poi c'è il bonus Di Dracula X Che tra l'altro Ma è strano E infatti Perché nell'elbretto C'è scritto Dracula X E invece Ma questo è vestito Tipo Street Fighter Allora Dalila Tu uno Non devi toccarmi E Richter Belmont Ho capito Ma questi sono Medievaleggianti Un po' così Questo Bello e buono Cioè Sembra cosa Quello Eh no è bello Però questo è molto Lady Oscar Questo è molto Vampiro Questo è un po' Cioè voglio dire Questo Vabbè Perché sono tutti Giochi Game Boy Advance Tranne quello lì Che è Dracula X Però non ho capito Perché nel Nel gioco Proprio vero e proprio Lo chiama Vampire's Kiss Che è la versione europea Invece Dracula X È la versione americana Va bene E con questa È conclusa Quest'unboxing Spero non sia durato Tantissimo In realtà è durato Tantissimo Purtroppo Va bene Io vi ringrazio Per aver guardato Il video Per ringrazio anche Dalila Per aver scartocciato Ma tanto non sono qui Di mia spontanea volontà E sarà l'ultimo Non ti preoccupare Perché non ti È stato detto che non avremmo cenato Se non avessi fatto questa cosa Io ho fame Va bene Ora ti porto a mangiare Grazie Brava